Vorrei fare un anticipo del brano nuovo che hanno fatto, D'Alessio, Come si è Fragile, con J.E.L.I.A. E' anche nel tuo disco? Sì, sì, la versione strumentale. Mamma mia, Come si è Fragile, che anche D'Alessio ha fatto un video che sta spopolando, ha detto mi è asciuta così. Vuoi fare un accello? Vai. Che bella. Siamo pronti, regia. Come si è Fragile. 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 tipo una serie di applausi